good morning guys quello che avete letto non è un titolo click bait perché oggi voglio veramente provare a capire se harley davidson è in crisi io non posso capire perché non sono nell'azienda però posso cercare di farmi un'opinione e vedere se magari coincide con la vostra prima di iniziare un'ultima cosa ragazzi dati alla mano forniti da youtube vedo che molti di voi che mi seguono ancora non si sono iscritti al canale mi aiutereste tantissimo semplicemente cliccando il tasto iscriviti per voi è uno sforzo minimo per me è un gesto immenso mi aiutate tantissimo a far crescere questo canale ora direi di mandare la sigla e subito dopo pronti a iniziare a ragionare su harley davidson let's go ok quindi harley davidson è in crisi come tantissime case motociclistiche ma non più di altre quindi già questo è un qualcosa che ci fa ben sperare se vi dico live wire pan america bronx subito vi vengono in mente tre modelli molto diversi da quelli che sono la storia di harley davidson e il primo uscito è il modello elettrico ovvero la live wire questi tre modelli sono andati a rappresentare la scelta strategica di levatic prima dell'ultimo cambio amministrativo è stato il ceo in forza in capo ad harley davidson la sua strategia era basata sul motto 100 novità in sette anni intendeva sfornare 100 nuove tipologie di harley qualunque cosa potesse essere in sette anni aziendalmente è un'impresa enorme conoscendo la storia di harley davidson era un azzardo enorme purtroppo questa strategia non si è rivelata delle migliori anzi ha cominciato subito a creare molto rumore di base di fondo fra i suoi appassionati infatti le tre moto che ho nominato poco fa sono motociclette pensate per una clientela più giovane la clientela media di harley davidson è una clientela medio alta quindi dai 40 anni in su il pensiero di levatic non è del tutto sbagliato provo ad accaparrarmi una clientela più giovane una clientela che magari tende a snobbare harley davidson avrebbe potuto funzionare e come in tutte le cose c'è un però il però in questo caso me lo pongo io se harley davidson ha una storia alle sue spalle custom di moto bastarda di moto ignorante di moto per brutti ceffi continua su questa strada svecchiala in qualche modo rendila appetibile per i giovani non metterla in secondo piano facendo capire che la tua strategia sta puntando su tutt'altre motociclette nel cercare di accaparrarsi un mercato più giovane cos'è che ha fatto levatic ha cercato iniziato a voler produrre delle motociclette di medio bassa cilindrata basta andare a vedere la collaborazione con la qui gianji qui gianji qui gianji lei ok non lo so dire abbiate pazienza provateci voi avrebbero dovuto produrre questa nuova motocicletta da 350 cc per un mercato giovane se io vi dico the rewire cosa cosa pensate è semplicemente il motto del nuovo ceo harley davidson johen 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 chiamatelo come volete non lo so pronunciare zeith è l'ex a questo punto ceo di puma che a sua volta fu assunto dalla puma per ritirare su le sorti della puma se ben vi ricordate la puma era un'azienda praticamente sull'astrico mancava poco che dichiarasse bancarotta e con le sue strategie a quanto pare vincenti la puma è diventata una macchina fabbrica soldi vista in questa maniera sicuramente la scelta di assumere lui può funzionare il mio dubbio è ma uno che lavorava amministrava un'azienda che fabbricava vestiario cosa ne capisce delle due ruote vorrei elencarvi i cinque punti fondamentali della sua strategia valorizzare i punti di forza prendo quello che è lo zoccolo duro della storia di harley davidson cerco di rafforzarlo cerco di ammodernarlo renderlo appetibile per il mercato odierno ma su quello baso la mia strategia futura dare la priorità ai mercati che contano dice bene che harley davidson si concentrerà su tutti quei mercati più redditizi ed è una cosa abbastanza ovvia per un'azienda puntare dove può guadagnare di più tenendo conto del primo punto ovvero la storia di harley davidson novità da lanciare in questo punto trovo un passaggio fondamentale ovvero andare ad ascoltare i rivenditori e gli acquirenti perché sono loro che sono a stretto contatto con il mercato sono loro che possono riportare di prima mano le impressioni e le volontà della clientela ricambi e accessori sappiamo già che la realtà aftermarket del mondo harley davidson è un mondo molto ben affermato ma la cosa su cui vuole andare a puntare il nuovo CEO è andarlo a snellire e magari puntare anche a una vendita online quindi per cercare di velocizzare e di essere più a contatto diretto con il cliente con la parte finale della catena di vendita struttura organizzativa cercare di ottimizzare e migliorare i costi di gestione da un po' di tempo che stiamo vedendo mettere in atto le strategie commerciali e amministrative organizzative di ZEIT le prime cose che ha fatto sono state andare purtroppo a licenziare dipendenti una prima sforbiciata ha licenziato 170 dipendenti e una seconda sforbiciata ne ha tagliati altri 300 e il taglio non ha interessato solamente i dipendenti ma anche i modelli infatti la nuova strategia mira ad andare a ridurre del 30% i modelli presenti cioè voglio andare avanti e riduco già i modelli presenti perché? la sua idea è riduco i modelli e mi concentro in modo più dettagliato e migliore rispetto a prima su quelli che poi rimangono in questo modo vado ad offrire un prodotto migliore non ha poi un senso così astruso e illogico per quanto riguarda i nuovi modelli per esempio Panamerica, Bronx, Livewire e tutti quelli che poi sarebbero dovuti arrivare sul mercato di Harley Davidson molto probabilmente non ne vedremo l'uscita Panamerica e Bronx dovrebbero poi in realtà arrivare sul mercato per il semplice fatto che l'investimento ad oggi è stato così grande che andare a cancellare completamente l'ingresso nel mercato di questi nuovi modelli sarebbe un po' come darmi la zappa sui piedi si dice anche che Panamerica e Bronx non entreranno nel mercato nel 2021 ma che anche il loro ingresso verrà posticipato non annullato ma posticipato siamo arrivati al punto cruciale di questo video abbiamo abbandonato l'amministrazione precedente che puntava a 100 modelli in 7 anni questa cosa sinceramente a me piace perché vuol dire che ci stiamo riappropriando della nostra storia infatti il nuovo percorso intrapreso sembra, e dico sembra perché lo potremo scoprire solamente fra tempo quello giusto quindi alcuni modelli entreranno comunque nel mercato e parliamo di modelli tecnologicamente avanzati così come il mercato sta facendo ebbene sì perché Harley Davidson è rimasta indietro dal punto di vista tecnologico le sue motociclette non sono al passo con i tempi la concorrenza sta facendo passi da gigante sta mangiando terreno a Harley Davidson e Zayt questo lo sa, lo ha capito e ha detto bene prendiamo i modelli che noi conosciamo che ci rappresentano di più e portiamoli nel futuro ad oggi le premesse sono molto buone sono premesse che fanno ben sperare e fanno dire a noi Harleyisti già possessori di Harley il nostro culo è salvo la nostra storia è salva la nostra casa madre non sta fallendo o meglio si sta allontanando dal fallimento perché invertire una rotta non è così immediato intraprendere il cammino per provare a invertire la rotta è immediato ma il risultato è lungo da ottenere e step by step potremo vedere se questo cammino questo percorso pian piano porterà i frutti desiderati scatenatevi qui sotto nei commenti e fatemi sapere il vostro pensiero magari partire anche qualche bella bella discussione utile per tutti quanti come ho fatto all'inizio del video vi invito a iscrivervi al canale e a cliccare anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati ciao ragazzi